Ancora ghiaccio e ancora neve lungo la strada che porta all'agriturismo all'interno del quale lo scorso sabato è morto una settantenne colpito da un infarto. L'ambulanza ed i soccorritori del 118 non sono riusciti a raggiungere l'agriturismo a causa delle pessime condizioni della viabilità. È successo alla casina di Burraia, nel comune di Subiano, alle pendici dell'Alpe di Catenaia, in provincia di Arezzo. L'uomo romano Passalacqua si era sentito male la mattina del 3 marzo. Ad allertare i soccorsi era stata la moglie, ma l'ambulanza non era riuscita ad arrivare all'agriturismo, isolato a causa del ghiaccio e della neve. I soccorritori, a causa della strada impraticabile, si erano infatti dovuti fermare ad alcuni chilometri dalla struttura. Era entrato così in azione l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che aveva calato i soccorritori dall'alto nel disperato tentativo di salvare il settantenne. Purtroppo però per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ormai senza vita l'ha stato trasportato con una campagnola all'ambulanza e poi, dopo la constatazione del decesso, all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo. Oggi si sono svolti i funerali del settantenne, ma il giorno del dolore si è trasformato anche nel giorno della rabbia. I familiari dell'uomo infatti da anni denunciano le condizioni della strada che conduce alla casina di Burraia, impraticabile anche oggi a tre giorni dal tragico episodio.